Cerchi un ristorante o un locale per andare a cena? Devi festeggiare un evento particolare? Chiamo il call center di Radio Radio By Night Roma 800 039 036 per avere un trattamento privilegiato 800 039 036 Radio Radio By Night Roma Ma cos'è che c'è? Informazione, gossip, tendenze, locali, eventi, tutto quello che puoi fare di notte a Roma By Night Roma, tutte le notti, da mezzanotte alle 5 del mattino Niente, dormi, va By Night Roma, By Night Roma, voice of your night, musica for me night By Night Roma, By Night Roma, voice of your night, musica for me night This is the voice of your night, Radio Radio By Night Roma, cento, quattro, e ciclo, e film, let's begin Adesso a Sandro Torella, il direttore artistico del Teatro allo Scalo Stiamo chiedendo come va il teatro, allora grande Sandro Torella, buonasera, benvenuto Ciao, buonasera Emilio Come va il teatro, cosa state preparando, che spettacolo state facendo? C'è uno spettacolo io, mia sorella e il suo fratello Una commedia C'è una commedia fino a domenica questa La via è via dei reti? Via dei reti, 36, San Lorenzo Grande, Sandro Torella Domani a che ora è? Ore 21? Domani 21 Domedica alle 18, ora domenica Lunedì riposo Lunedì riposo, riposiamoci Martedì, no, questa volta dal 2 al 5 c'è Teatro di Giustizia Un ex giudice e scrittore che ha preparato questo spettacolo e lo mette in scena dal 2 al 5 Poi, quando avremo tempo, mi racconti con esattezza, tu che sei un esperto Cosa successe al Brancaccio nella vicenda Proietti, Costanzo Non so se ti è arrivato Lo so, lo so Però vorrei sapere la verità Sì, però è il disparo Esatto, l'infoline per quanto riguarda il Teatro allo Scalo per poter partecipare anche ai vostri corsi Per i nostri corsi l'infoline 340-6485-291 Oppure teatroalloscalo.it Il telefono, diciamo il fisso 0683 Non me lo ricordo, andatelo a vedere sul sito Teatro allo Scalo Grandissimo Beh, il direttore non è che si può ricordare tutto No, tutto tranne il telefono, mi ricordo la via Allora, il sito è? Il sito teatroalloscalo.it 104.85